Il palco di Sanremo è unico perché sul palco di Sanremo si compie un po' una piccola magia perché nel momento in cui sali su quel palco canti un pezzo che è nuovo, che nessuno ha mai sentito è dall'inizio di un nuovo percorso e quindi è sempre un momento incredibile il momento in cui sali sul palco e finalmente fai sentire una cosa che sono mesi che è lì nel cassetto e non vedi l'ora di finalmente condividerla Il tuo brano appunto, il diluvio universale, è un flusso di coscienza sull'amore quanto è difficile trovare l'uomo giusto? Come vedi il mondo maschile della tua generazione? Quello di sicuro che mi sento di dire è che sinceramente il pensiero dell'uomo giusto non dovrebbe attanagliare più di tanto la coscienza di una donna, di una ragazza perché se arriva, arriva, se no uno deve anche un po' pensare ai fatti suoi alla sua strada, ai suoi obiettivi, alle sue cose E come vedi la generazione maschile, i ragazzi della tua età, il mondo maschile che ti è attorno? Ma io per quanto riguarda i miei amici, le persone che frequento io mi sembra di vedere tanti ragazzi che si fanno un mazzo così e cercano comunque di farsi strada, di crearsi una strada per il futuro, uno spazio e c'è tanta immaginazione, forse perché le cose sono, magari sono più difficili c'è comunque un sacco di, c'è competizione, magari ci sono posti di lavoro queste cose qua, la precarietà eccetera però tutto ciò per assurdo ha fatto sì, per quanto mi riguarda che la creatività e l'immaginazione, proprio di immaginare qualche cosa un'iniziativa, una proposta, secondo me quella è cresciuta e questo penso che sia una cosa buona Tornando alla canzone, parli l'amore, l'amore è vero o fa paura? Guarda in realtà non lo so sinceramente, non mi sento di dare una risposta precisa io penso che l'amore vero in realtà sia meno travolgente di quello che si pensa cioè nel momento in cui sei, che ne so, adolescente e questa idea dell'amore combattuto, sofferto e che poi però in realtà io sono convinta che l'amore vero sia anche benessere benessere condiviso, quindi non lo so nel momento in cui stai bene vuol dire che hai trovato l'amore, secondo me Ovviamente avrai consulenti per il look, ma qual è il tocco che non può mancare ad analisa su quel palco? Il tocco, guarda il look, l'abito e tutto deve essere congruente con quello che dici e con quello che canti sempre, quindi questo per me è il focus ogni volta non c'è un particolare che ti dico no io senza quella non vado da nessuna parte non c'è, c'è però veramente l'attenzione al cercare di proporsi in un modo giusto e congruente con quello che vuoi comunicare e con la canzone che porti